Eh? Che t'avevo detto, Josue? Una cosa eccezionale, eh? Che posto! Oh, andiamo, 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 se no ci piegherai il posto. Oh, siamo prenotati noi, eh? Due singole. Vieni, vieni. Oh, permesso? Permesso? Eccolo qua, dov'è? Eccolo qua, vedi? Ah, eh? Torniamo qua, ci stringiamo, eh? Josue. Babbo, qua è bruttissimo, puzza, voglio andare dalla mamma. Eh dai, ci andremo, eh? Ho fame. Mangeremo, oh. E poi sono cattivi, cattivi, urlano. Urlano perché, oh, il fame è grosso, un cararmato vero fa quella a tutti, sai? Devono essere duri, eh? Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco? E quando finisce? Eh, bisogna fare mille punti. Chi fa mille punti vince un cararmato vero. Non ce lo credo, se lo danno la merenda. La, la merenda? Eh, la merenda... Guarda chiedere, sono tutti amici qua, sai? Eccolo, guarda chi c'è, c'è il coso, eh? Eh, Bartolomeo. Bartolomeo, ti vuole chiedere una cosa, scusa, eh? È già passato quello che dà il, il pane con la marmellata? Ecca miseria, oh, si è fatto tardi per un secondo, eh? Hai visto? Ripassa comunque, no? Oh, per il secondo turno, ce la dà, eh, vabbè, ripassa. Achtung! Achtung! Ui! Gibt esi a un italiano che ha detto? Che ha detto? Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Chi sei a tedesco? No. Alles, Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vinci a mille punti. Il primo classificato vince un caro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella so parlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto Asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am bau des großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem befehl ohne Fragen. Drittens, jeder versuche eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erringen bestraft. Ist das klar? In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet drecklich sein hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. E' molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Großemkeit ist alles. Dal Bicocke. Und noch etwas. Lui di frangole. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Ah. Non chiedete lecca lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Entretten in zwei a halb. Io ieri non mangiati 20. Schweigend. Mal di pancia. Jeden morgen. Per noi eran buoni. Isabel. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die dimension des lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. No, no, no. Non mi chiedete niente a me. Chiedete tutto a Bartolomeo. Lui sa tutto. Vi dice tutto lui. Dopo ve lo dice anche a me che ha detto. Mille punti. Che l'avevo detto? Chi si diverte? Ma questi son mal... Che l'avevo detto?